Radio Radicale, siamo con l'Onorevole Gallo del Movimento 5 Stelle che è stato Presidente della Commissione Cultura per commentare un po' le parole di Grillo sulla permanenza del Movimento 5 Stelle al Governo. Oggi ha fatto una dichiarazione abbastanza forte su Di Maio Grillo che resterà anche domani a Roma. Allora, volevo chiederle se pensa che si stia profilando un appoggio esterno da parte del Movimento 5 Stelle al Governo. Io confermo quello che è stato detto dal nostro Presidente Giuseppe Conte, che noi stiamo nel Governo per sostenere le battaglie per i cittadini. Ne voglio ricordare qualcuno, abbiamo il salario minimo perché i cittadini non guadagnano abbastanza pur lavorando per arrivare a fine mese. Abbiamo il super bonus bloccato che sta mandando in fallimento diverse aziende che oggi, pur avendo fatto i lavori, non possono riscuotere il credito. Sono aziende con la disperazione loro e anche dei dipendenti. Abbiamo i temi che riguardano la transizione ecologica che naturalmente non si può abbandonare perché esiste una guerra in Ucraina, ma la transizione ecologica prescinde dai contesti in questo momento geopolitici, ma è un'esigenza che ci chiedono i consensi internazionali. Ci danno tempo fino al 2030. Noi abbiamo messo il 2050 nel simbolo proprio per ricordare questa urgenza e è chiaro che non possiamo transicere. Senta, adesso che cosa succederà? Qual è il dibattito che si sta svolgendo sulla vostra permanenza o meno nel Governo? Almeno, diciamo, con le presenze dei ministri. No, so che ha già annunciato Giuseppe Conte che vuole incontrare Draghi e credo che farà un quadro di tutti questi provvedimenti che vengono alzoppati per i cittadini. Sono delle misure, lo stesso reddito di cittadinanza, che vengono alzoppate per i cittadini, non a danno del Movimento 5 Stelle. Se le regioni non assumono il personale per i centri per l'impiego, se non mettono i centri per l'impiego in condizione di lavorare, di pubblicizzare le offerte perché poi una parte del reddito va all'impresa che assume il percettore, se non fanno questo, non è che fanno un danno al Movimento 5 Stelle, qualcuno pensa che è questo, ma fanno un danno ai cittadini, alle imprese che vogliono assumere, ai cittadini che vogliono trovare lavoro. E queste sono temi seri. Volei dire qualcosa sulla operazione di Maio? Pensa che con questa operazione trasformistica in qualche modo si sia cercato di sostituire il Movimento 5 Stelle? Il suo profilo di impegno nelle battaglie che abbiamo conosciuto? Guardi, questa è un'operazione tutta di palazzo. I cittadini l'hanno capito, non parte da un movimento da basso, da un'esigenza dei cittadini per qualche o meno misura. Un'operazione di palazzo. Spero che non abbia troppi mandanti oltre a Luigi Di Maio, perché significherebbe che sarebbe non solo un'operazione di palazzo, ma un'operazione contro il Movimento 5 Stelle. Lei al secondo mandato ha fatto una scelta coerente pensando di restare nel Movimento 5 Stelle? Ho fatto una scelta coerente. Io credo che noi del secondo mandato abbiamo accumulato un'esperienza importante che può solo essere messo a profitto di una forza politica che ha deciso di occuparsi degli ultimi e dei senza voce di chi solitamente non è rappresentato neanche da associazioni di categorie in questo Paese. Io sono a disposizione del Movimento e di tutto il percorso che vorrà fare il Presidente Giuseppe Conte, su cui è una stima importantissima, perché il progetto politico che ha messo in capo il Presidente Conte è un progetto di lungo respiro con lo Statuto che si identifica con dei valori, se andate a leggere la Carta dei Valori, che sono quelli di una socialdemocrazia moderna. I rapporti tra Conte e Grillo, come ci li abbiamo comportati noi giornalisti nel descriverli, secondo lei? Ma io credo, io l'ho incontrato Grillo e ha detto che i rapporti si sono ricusciti pienamente e questo l'ha ripetuto tutti i deputati che lo hanno incontrato e questo può essere un punto di forza in più per il Movimento. Grazie, la ringrazio e ringrazio l'onorevole Gallo del Movimento 5 Stelle.